Campania e Liguria Come visto dall'accordo, le due regioni collaboreranno per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie destinate a ricerca e innovazione, cercando di generare un effetto moltiplicatore nell'impiego delle risorse. Tra gli obiettivi dell'intesa spiccano le azioni di politica industriale in grado di sostenere i territori, ponendo al centro la tutela della salute e dell'ambiente e sostenendo l'internazionalizzazione delle imprese e del capitale umano. Ritengo che ci siano molti motivi per sviluppare insieme un percorso e in questo protocollo ne abbiamo tracciati i primi. Abbiamo opportunità che possiamo sfruttare nell'interesse delle nostre comunità e guardando sempre al futuro e partendo da un obiettivo comune che abbiamo, Liguria e Campania, il lavoro.